I principali tipi di marchio. Il marchio denominativo. Quali sono le sue principali peculiarità? Il marchio denominativo o marchio di parola è un marchio costituito esclusivamente da parole, lettere, cifre o altri caratteri. La parola viene registrata in un carattere tipografico standard. La registrazione di un marchio denominativo permette di accedere a una tutela particolarmente estesa. Infatti, il titolare acquisisce un monopolio sulla parola di cui chiede la registrazione, che può dunque essere declinata in qualsiasi stile grafico e in qualsiasi colore. In altri termini, realizza una contraffazione del marchio chiunque all'infuori del titolare utilizzi la parola oggetto di registrazione oppure una parola simile in qualsiasi stile grafico e colore per contrassegnare un prodotto o servizio identico o simile. Come anticipato, possono essere registrati come marchi denominativi anche lettere e numeri, seppur con dei limiti, poiché come detto la registrazione del marchio determina un monopolio sul segno, sarebbe inopportuno formare dei monopoli su singole lettere o su singoli numeri, impedendo di farne uso a chiunque all'infuori del titolare del marchio. Per tale ragione è possibile registrare combinazioni di lettere o di numeri, oppure anche singole lettere o numeri ma non come marchi denominativi, bensì come marchi figurativi, ossia purché presentino una veste grafica particolare, idonee a distinguerli dagli altri lettere e numeri. Nel prossimo video parleremo proprio dei marchi figurativi. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, abbiamo un'intera sezione dedicata al diritto industriale. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.